Ancora pioggia battente nella notte dopo il lubifragio di lunedì in Alta Valtidone, con strade che si sono trasformate di nuovo in torrenti di fango e detriti e con i collegamenti interrotti per alcune ore con le frazioni. Poi il sole torna a splendere in cielo mentre si allunga la lista dei danni. La bomba d'acqua di lunedì tra Zavattarello e Romagnese, che ha scaricato terra a punte di oltre 100 mm di pioggia in poche ore, ha lasciato strascichi pesanti e messo in luce la fragilità del territorio alle prese con eventi climatici sempre più estremi. Come previsto, la terra già inzuppata dalle precedenti piogge, soltanto a maggio, si sono superati anche i 200 mm caduti, in diversi punti non a retto, frane e smottamenti, fossi stralipati e fango e detriti sulle strade, con danni alle colture, specie al foraggio, pronto per il primo raccolto e le semine già fatte, andate distrutte. In frazione Molina si è verificato anche un incidente con una donna rimasta bloccata in auto per la furia del maltempo, è stata soccorsa dai carabinieri e dai vigili del fuoco intervenuti con la protezione civile. La pioggia ha picchiato duro anche in Alta Valle Versa, sempre ai confini della provincia di Piacenza, fra Volpara e Golferenzo, con fossi esondati e vigneti danneggiati, invasi dai detriti. Martedì mattina fossi e torrenti erano ancora gonfi, ma la situazione stava tornando alla normalità, sebbene ci sarà molto da fare per sistemare i danni provocati dall'ennesimo evento estremo per il prosieguo della settimana. I meteorologi segnalano la possibilità di fenomeni sparsi nella notte fra martedì e mercoledì, giorno in cui, a partire dal pomeriggio, sono attese nuove piogge che, si spera, non provochino altri problemi e soprattutto smottamenti, visto che i terreni oggi sono incapaci di assorbire altra acqua.